Parleremo del Fondo Sociale Europeo alla maniera nostra, della Regione Umbria, sempre un po' particolare. Sì! Gong ai due minuti! Io rappresento il progetto Brainback. Il corso al quale ho partecipato in realtà si chiama Esperto in Legislazione Europea e Politiche di Innovazione per la Competitività di Impresa. L'Ovitali è l'etichetta con cui si descrive il progetto che ha permesso a me e altri 14 miei colleghi di prendere la qualifica professionale. Quale progetto vincerà la categoria mobilità? E adesso votate! Con il 49% vince Impresa Europa! Noi alla fine di questa serata eleggeremo anche il progetto Best of the Best. Non posso fare altro che ringraziare chiaramente i giovani che hanno dato il loro favore a questo nostro progetto. Noi alla fine! Grazie.